Sì, io sono sceso a preso il 6, ah esatto, io sono sceso a preso il 6, ah esatto, lei quel biglietto? No, non c'avevi, non c'avevi, non c'avevi, non c'avevi, non c'avevi, non c'avevi, io invece mi stavano per fare la punta, sono 33, si è fatto un bel percorso, erano in borghese Sì, c'avevi, io non ce l'ho, ovviamente non c'avevo la Nineveh, non c'avevo caldo, non c'avevo caldo, io non c'avevo caldo, io non c'avevo caldo, no, avevo caldo Sembra che... se ha 25 ore sceglie, se non sono ci ancora a alto Grazie a tutti.